Benvenuti in questo nuovo video Anticipazioni di Pelosetti del Paradiso delle Signore dall'8 al 12 gennaio 2024. In questo video vi mostreremo le anticipazioni settimanali del Paradiso delle Signore. Lunedì 8 gennaio, Elvira e Tullio sembrano vivere una relazione serena, mentre Salvatore non si arrende e mira a conquistare nuovamente il cuore della Gallo, focalizzandosi sul nightclub come sua strategia. Nel frattempo, Delia si sente incuriosita dalla scoperta di un ammiratore misterioso. Dopo la difficile separazione dal suo ex negli Stati Uniti, Marta è profondamente abbattuta. Umberto e la Contessa organizzano una sorpresa sperando di sollevare il suo spirito. Matilde e Vittorio sono sempre più legati, ma l'investigatore di Tancredi li tiene costantemente d'occhio. Martedì 9 gennaio, Vito ha organizzato una sorpresa per Maria. Vuole portarla a visionare una casa da acquistare insieme. Ma durante questo momento, nota il braccialetto che la sua ragazza sta indossando. È il regalo natalizio di Matteo e Maria si trova nell'imbarazzo, cerca di trovare una scusa plausibile. Nel frattempo, Rosa ha finalmente trovato lavoro, ma decide comunque di fare una visita alle Veneri al Paradiso. Si scopre che è il misterioso corteggiatore della Bianchetti. Poiché inizia a sospettare di essere seguito da un investigatore, Conti decide di affrontare direttamente Tancredi. Nel frattempo, Adelaide e Umberto stanno elaborando un piano per convincere Marta a rimanere a Milano. Mercoledì 10 gennaio, Delia viene sorpresa da un invito romantico da parte del suo ammiratore segreto. Matteo scopre che Vito ha intenzione di comprare una casa per sé e la sua futura moglie. Tuttavia, quando Vito nota il braccialetto che aveva visto al polso di Maria nell'ufficio di Portelli, sorgono dei sospetti inevitabili. D'altro canto, Maria accusa Matteo di aver deliberatamente fatto notare il gioiello a Vito. Matilde affronta direttamente il marito, ponendogli di fronte a una scelta quando chiama lei stessa i carabinieri per farsi denunciare. Giovedì 11 gennaio, Tancredi confida solamente a Marta riguardo al suo scontro con la Frigerio. Botteri rivela l'identità del corteggiatore della Bianchetti, salvandola da una situazione spiacevole. Vittorio viene informato direttamente da Marta sulla sua scelta di rimanere a Milano. Maria fa un gesto evidente verso Vito per far capire a Matteo che deve lasciarla in pace. Nel frattempo, alla caffetteria, tutto è pronto per il grande evento musicale della serata. Barbieri chiede ad Adelaide di fare una visita. La contessa si troverà costretta a prendere una decisione. Venerdì 12 gennaio, Adelaide è sull'orlo della partenza per Ginevra e organizza un incontro con Marcello, avendo preso una decisione definitiva sul loro rapporto. Nel frattempo, Umberto cerca di persuaderla a restare a Villa. La contessa è indecisa su cosa fare. Elvira complimenta Salvatore per la riuscita della serata in caffetteria. Riaccese le speranze di Amato che brama di riconquistarla. Marta e Matilde si incontrano e, per la prima volta, parlano di Vittorio e Tancredi. Le parole di Guarnieri spingono Matilde a chiedere un ultimo incontro a Tancredi. Maria e Matteo tentano di chiarirsi, ma la situazione diventa troppo intensa. Grazie per aver seguito questo video Anticipazioni del Paradiso delle Signore dall'8 al 12 gennaio. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.